Amici di Player Inside, siamo qui su Trials Rising, il nuovo Trials, dopo Trials Fusion e Trials Blood Dragon, insomma tutti quelli che abbiamo giocato e che abbiamo portato anche su questo canale con un relativo e discreto successo, giusto Maidra? Ma soprattutto ci siamo sempre divertiti con Trials anche quando non siamo stati ripresi da una telecamera, ma oggi ve lo facciamo vedere qui in anteprima assoluta direttamente da Los Angeles in California. Vediamo subito che questo nuovo Trials è suddiviso con una mappa del mondo che prevede zone più facili per quanto riguarda i tracciati, che sono quelle dell'America per adesso, zone intermedie e zone più difficili che sono quelle dell'Oriente e dell'Estremo Oriente. Facciamo quella Links World che secondo me promette bene, e soprattutto ragazzi facciamola in tandem. Oh, che cos'è tandem? È una nuova modalità che prevede l'unione di due giocatori nella stessa moto, vedete ci sono due manubri e la possibilità soprattutto di manovrare la moto in due con relativo disastro. Cominciamo subito. Il gioco prende in considerazione l'accelerazione e il controllo di tutti e due, siamo partiti malissimo. Ma perché si è tolta all'ultimo? Dove hai messo il piede? Vai subito. Allora, no, aspetta. Va bene così, va bene così, molto bene, molto bene, attenzione. Molto bene. No, no, non andare indietro. No, non sto andando indietro. Ok. Qualcuno c'è andato, eh. No, io no. Ok. Oh, 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 oh. Ah, una volta questo l'ho fatto nella vita reale. Una cosa che ho notato di questo trial è che i tracciati sono molto più spettacolari. Sì, è vero, è vero. Hanno imparato dalle esperienze precedenti e li hanno fatti ancora più esagerati. Infatti non sappiamo se avete visto il trailer ufficiale della conferenza, però effettivamente anche lì si facevano vedere tanti fail che erano molto hilari. Lasi, tra l'altro. Raiden. Allora, non troppo di... Ma poi com'è? Come? È divertente. Però, allora, vogliamo dire che si è più pippe in questo trials perché si gioca in due e con una che non sa neanche la differenza fra te stessi e sinistra. Ma non è vero. Mi viene difficile. Ma come ti permetti? Ok, vai, vai, vai. Poi tra l'altro hanno messo un sacco di trappole apposta. La lava. La lava. Ok, no, no, ragazzi, questo portato su YouTube deve essere divertentissimo. Poi voi non ve lo guardate e ci inganziamo. Boste, però, vabbè, se non ve lo volete guardare, almeno giocate, ve lo sempre piace. Esatto, però questo portato su YouTube deve essere bellissimo, altro che... Pronti? Wow, wow, wow. Non mi ricordo. È bellissimo, ragazzi, è troppo. A me Trials piace sempre tantissimo. Ah, tra l'altro questo è il primo Trials ad arrivare su Switch, eh. Facciamo un black flip appena possiamo. Che dici, Midna? Lo prendiamo su Switch? Grandi! Piano, piano, basta, basta! Ma che cazzo? E ora? Ma ce la siamo cavata super egregiamente. Ragazzi... No, non moriamo, non moriamo. No! Ah, sì, ce l'abbiamo fatta. Attenzione, argento. Ma abbiamo fatto il black flip, quindi? Sì, però abbiamo sbattuto di testa. Ma dai, abbiamo sbloccato una medaglia. Non è andata male, non è andata male, assolutamente. Ma che dici di farne uno difficile? Dai, facciamo uno difficile così non ci riusciamo e facciamo ridere e rendiamo il tutto più hilare. Tra l'altro vi ricordiamo che per quanto quasi definitiva sia questa versione è comunque una versione work in progress, come potete vedere dal logo che rompe un po' le palle. Skate or don't? Era skate or die? Cioè, skate oppure no? Anziché skate or mori? Ragazzi, immaginatevi questo su Switch, uno ci gioca anche in treno, in aereo. Ed esce su Switch, eh? Sì, sì, esce. Guarda, ci sono loghi Ubisoft dappertutto. Madonna. Ok, non ti strusciare, una volta che muori, muori e basta, no? Ma sei tu che ti strusci. No, tu sei quello rosso. O no? Sì, è vero. Eh, tu dovresti essere quello rosso. Ok. Oh! Ci abbiamo lasciato le teste! Allora, non devi... Maledetti hanno calcolato tutto. Non devi accelerare lì. Accelera solo uno, ok? Quindi non accelera nessuno, se ne io ne tu. Allora, dovevamo blackflipare. Cioè, scusa, che senso ha? Allora, blackflip... Ah, peccato. Blackflip... Blackflip... Appena saliamo in alto. Vai, blackflip ora, no, scherzo. No, non era vero. Ma sei tu che giri! Non l'inclinare, non l'inclinare. Dobbiamo metterci d'accordo, non l'inclinare. Vedi, vedi che sei tu che ti strusci. Scusate. Continua, puoi continuare tu da sola. Ah, giusto. Ah, ragazzi, questa cosa, guarda, facciamola vedere. Se io volo, tu puoi continuare. Ti salgo di sopra e continuo. Però guidare una moto dal manubrio posteriore non è il massimo. E io poi non spunto mai. Guardate, è blackflip. Ma non blackflipare qua. Crash. Ok, vai. Vai, del... Ok, vai, vai, vai. Non blackflip l'orelle. E adesso blackflipiamo. No, non blackflip... Adesso, ora. Ah, io vado in avanti e tu indietro. Siamo arrivati per il rotto della cuffia. Blackflipiamo. No, ma ferma. Ma qua blackflip... Qua blackflip lì? Beh... Ragazzi, hashtag blackflip lì. Ferma, bene, non blackflipare mai. In un modo... No! Non ce l'ha data buona. No, dai! Dai, abbiamo fatto più cinque secondi per sta cazzo. Ma vuoi per favore non accelerare lì? Non faccio niente. No, quasi, quasi che non ci arriviamo. Dai, ok, accelera. Accelera! Ok, dritto per dritto. Adesso moriamo. Ma sul televisore che casca addosso. Boo! Ma come? Ma come boo? Effettivamente non abbiamo fatto tanto blackflip. Ragazzi, però medaglia di bronze è un po' vergognoso. Proviamo a fare un altro se c'è ancora la possibilità di tandemmare. Anche se non sono sicuro perché in questa demo Work in Progress non ci sono tanti circuiti tandem. Ma noi vediamo di provarne qualcuno. Wow. Ok. E il parco, praticamente, dove c'è Bubu e Yogi. Sì. che fanno queste cose, Bubu. E fanno queste cose, sì. Oltre a tante cose omosessuali. Attenzione. Ce l'abbiamo fatta? Siamo stati bravi? Sì, ce l'hai fatta. In realtà io non sono intervenuto, sai? Ah sì, sono stata io? Ho preferito lasciare a te il disastro. Abbiamo sbloccato l'obiettivo. Sì. Adesso all'indietro. All'indietro. Ah, perché quelli che abbiamo fatto sono frontflips. Esatto. Quindi quando sono in avanti sono frontflips. Ma vallo a sapere, io li ho sempre chiamati backflips. Ecco perché quando li facevo mi dicevano non fai backflip, fai frontflip. Nella realtà, ragazzi. Ed erano facili facili. No, però non così. Mi dicevano quelli sono facili. Infatti tutti i miei compagni a scuola con il motorino li facevano. Non è vero. Qua blackflip. Basta, basta, basta. In blackflip. Se vi ho fatti due, un altro. Basta, basta, cazzo, cazzo. No, dai. Allora, l'abbiamo bruciato. Ah, giusto. Basta. Basta, basta. Lo stretto necessario. Non più dello stretto necessario. Oh, no, beh. Occhio. Poi per compensare, le dette volte, tu premi avanti e io pure e quindi tutte e due andiamo a cagare che è una meraviglia. Attenzione. Cosa che non stiamo facendo qui in America, ragazzi? Dobbiamo controllare. Vediamo come va a finire. Malissimo. E quelli applaudono, però, guarda. Sì, sono contegni. Vedono. Allora. Ok. Qui dobbiamo controllare. Pensavo andassi un po' Vai, vai forte. Vai forte. Ok, ferma. No, ma non eravamo morti. Sì, stramorti. Tu dici? All'anima di chi ti è morto. Ok. Ok, bravi. Perfetto, perfetto. Forse prima non è... Prima non eravamo morti. Ok, però adesso ci siamo pure compenetrati. Allora. Di tutta risposta. Allora, stai. Ok. In avanti, in avanti. Mannaggia. Non è difficile. Io in uno lo farei in due secondi. Che vuol dire? Tu dici sempre sta cosa, ma il divertimento è giocare in due. La vita è più bella da soli. Non è vero. Ok, molto bene. No, in un modo o nell'altro? No, non volevo fare il blackfish. Io l'ho fatto. Ok. Ma dove stiamo atterrando? Inesorabilmente. Inesorabilmente. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No, ragazzi, è bellissimo. C'erano i geyser, l'hai visto? Qua ci sono le scorre radioattive. Dai, qua siamo tipo in Fallout 4. Ok. Ok, il parcheggio, il parcheggio, il parcheggio per parcheggiare la moda. Sì, e ora voliamo. A casa della signora. A casa della signora. No, ragazzi. Trials è troppo divertente. È troppo divertente. Veramente. 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 Abbiamo fatto niente. Non ci ha dato nulla. Ok. È un primo assaggio comunque, perché ci saranno altri circuiti e robe varie. Esatto. Abbiamo provato, ragazzi, quindi insieme tutti i circuiti tandem. Abbiamo sbloccato, attenzione, l'elmetto da orso e poi varie cose. Da cavallo. Da cavallo. Orso, scusate. Da cavallo. Quindi, ragazzi, dopo questa esperienza tandem che si è discosta da quella fatta a Camigliatello in Sila, che è una cosa un po' diversa, vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao.